Buongiorno a tutti, sono Giulio Pedrollo, sono il presidente dei giovani imprenditori del Veneto e sono qui per raccontarvi perché ritengo sia fondamentale quest'anno partecipare a SMAU, a maggior ragione in un momento economico così delicato per le nostre imprese. Per prima cosa sono molto felice del fatto che noi giovani imprenditori, la nostra associazione, quest'anno partecipi attivamente per la prima volta al premio Giovani Confindustria SMAU. Ritengo questo evento fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, si terrà mercoledì 17 alle ore 14. In questo contesto avremo l'occasione unica direi per incontrare le start-up. Le start-up a mio avviso sono l'elemento che potrà fare rinvigorire la nostra economia, farla finalmente ripartire. In due modi, da un lato possono effettivamente nascere, creare sviluppo e quindi anche benessere nel contesto economico in cui ci ritroviamo. Dall'altro lato offriranno a noi imprenditori una possibilità imperdibile di poterle sostanzialmente adottare in qualche maniera all'interno della propria impresa per poter rilanciare anche alcune imprese che magari sono in business, tutto sommato, non così innovativi. Molto importante è sottolineare la presenza di una tavola rotonda nella quale ci saranno sia giovani imprenditori da un lato, ma dall'altro lato ci saranno come ospiti manager di multinazionali che operano nel campo dell'ICT e si metteranno a confronto questi due mondi proprio per individuare quali sono dei punti strategici importanti per il futuro. SMAU proporrà un calendario di ben 600, anzi oltre 600 workshop gratuiti, un'occasione credo imperdibile per ogni imprenditore, per ogni manager che volesse aggiornarsi sui temi caldi delle tecnologie per il business. L'area SMAU che tengo particolarmente a segnalare è quella dedicata alle regioni che saranno presenti con gli assessorati e le attività produttive. In questo caso gli imprenditori avranno l'occasione, anche qui devo dire imperdibile, di confrontarsi con le proprie regioni, con gli assessorati, per poter intravedere possibilità di finanziamenti particolari oppure anche di accesso facilitato a dei bandi. Creazione di nuove sinergie, aggiornamento, opportunità di finanziamento sono tre buoni motivi per essere quest'anno presenti allo SMAU 2012.